Che tappa segna l'apertura di Rosantica nel centro di Milano in Via della Spiga? Una tappa importantissima anche perché Milano è la mia città, è la mia città di ritorno perché ho vissuto all'estero metà vita, diciamo, e ho voluto rientrare in Italia perché amo questo paese, quindi in un momento così difficile sono molto contenta di far parte di questa rinascita di Milano. Quali sono le strategie del brand? La strategia del brand è sicuramente di aprire altre boutique come questa, nei posti più belli al mondo, diciamo, per cui abbiamo intenzione di aprire a Parigi, a Londra, a New York, a Hong Kong per posizionare sempre di più Rosantica al top delle borse gioiello e degli accessori gioiello che abbiamo. Per quanto riguarda le collezioni, ci sono delle novità? Novità? Ce ne sono tantissime, tra cui la Trullo Bag Collection che abbiamo lanciato con Anna Delorusso. Così come io ho voluto tornare in Italia, lei ha voluto tornare in Puglia dopo tanto girare il mondo, poi torni un po' alle origini. È una Trullo meravigliosa, identica al suo Trullo e questa è, diciamo, la grande novità di questa stagione. Prevede il futuro? Cosa ci sarà? Non si può prevedere. Sicuramente il viaggio continua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.